Il numero 3 del 2015 di Notizie Magazine della Regione Piemonte ospita l'editoriale di Alessandro Barbero sull'importanza degli statuti medioevali delle comunità locali. Apertura sul nuovo piano paesaggistico in approvazione e sulla legge di riordino delle aree protette. Ampio servizio poi sulla riforma degli enti locali. Sul piano sociale la rivista presenta il progetto Guadagnare Salute. Tanti gli approfondimenti culturali, sociali e sportivi con ampi servizi sulla ceramica, gli sport tradizionali piemontesi tra cui le bocce e il tamburello e le rievocazioni storiche.